Capita ormai molto spesso di trovarsi all'ultimo minuto con degli impedimenti che fanno slittare o addirittura rendono impossibile il rogito. È imprescindibile per un mediatore fare tutte le verifiche legali e tecniche per poter commercializzare un bene. Santa Tecla Immobiliare, grazie ad un'impostazione unica nel suo genere, garantisce sia ai venditori che agli acquirenti la vendibilità degli immobili che propone sul mercato. Grazie ad uno staff legale composto da persone esperte di compravendita immobiliare ed uno staff tecnico composto da ingegneri e architetti, siamo in grado di redigere la carta d'identità dell'immobile dove sono indicate non solo la provenienza e i vari passaggi di proprietà avvenuti nel tempo ma di verificare l'esistenza o la presenza di trascrizioni, vizi occulti che possono insidiare la compravendita immobiliare. Ma soprattutto siamo in grado di offrire all'interno di questo servizio un altro documento diventato fondamentale per i notai che è il certificato di conformità edilizia urbanistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.